Allora, un cordiale buonasera alla diretta che precede la seconda serata della festa di Avvenire che tra pochi minuti realizzeremo a Matera nell'auditorium di Piazza del Sedile. Questa sera come seconda serata abbiamo un tema delicato, parleremo di sanità, parleremo di eccellenza sanitaria a livello nazionale con degli ospiti che arrivano anche da fuori regione, da fuori la Basilicata. In particolare saluto e ringrazio il presidente del gruppo ospedaliero San Donato, Paolo Rotelli, il primo gruppo ospedaliero del nostro paese. Ringrazio e saluto il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, Domenico Crupi, grazie della sua presenza. Abbiamo fatto gli onori di casa con gli ospiti che arrivano da fuori, saluto il presidente della regione Basilicata, Marcello Pittella, con noi il direttore generale dell'ASM di Matera, Piero Quinto, grazie della sua presenza. Mi aiuterà in questo confronto, in questo dialogo con gli ospiti anche Donato Pace, il collega Donato Pace, direttore della nuova Basilicata. Allora io inizierei subito con il dottor Rotelli, con Paolo Rotelli che è un ospite d'eccezione. Parliamo di eccellenza sanitaria, parliamo di ricerca, di innovazione, del paese. Come sta la sanità privata italiana? Beh, già la sanità in generale italiana sta molto bene. Chiediamo se l'audio è funzionante? Sì, 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 l'audio funziona. Ok, perfetto allora. Quindi come primo punto direi che già la sanità italiana in generale va molto bene, Bloomberg classifica l'Italia come healthiest country in the world, nel 2017 il paese più sano al mondo. Questo non è dovuto diciamo al fatto che abbiamo detto il Mediterraneo e il sole, c'era anche la Spagna, c'era anche la Grecia, ma di fatto al nostro sistema sanitario nazionale che è estremamente efficiente e che allunga la vita dei nostri cittadini. Però spendiamo poco. Esatto. Siamo uno dei paesi europei che spende in meno, con risultati migliori. Di fatto sempre Bloomberg ci classifica il terzo sistema sanitario più efficiente al mondo e il più efficiente d'Europa. In questo contesto la sanità privata italiana è difficile dire sta bene e sta male una parola. Sta bene quando è un pilastro del sistema sanitario pubblico come in Lombardia e purtroppo questo fatto che l'Italia spende poco in sanità, di spesa pubblica, solo il 6.8% del PIL, incomincia a creare un po' di tensione. In che senso? Nel senso che l'Italia ha previsto spendere sempre meno in sanità, di scendere sotto il 6.7% di spesa pubblica sul PIL, mentre la richiesta in sanità aumenta sempre di più. Quindi diciamo che la sanità convenzionata, che è la prima a subire tagli, è un po' in difficoltà in questi ultimi anni. Mentre per la sanità privata, privata, solvente, diciamo, si sta creando purtroppo, direi, un'opportunità. Dobbiamo aspettarci per concludere lunghe file di attesa per diagnosi e cure in futuro se la spesa non si alza? È un effetto automatico. Se la richiesta sanitaria aumenta perché la popolazione invecchia e perché i cronici aumentano e la spesa sanitaria diminuisce invece di aumentare, in automatico liste d'attesa aumentano. Grazie. Dottor Crupi, è troppo parlare di preconcetto nei confronti della sanità privata cattolica? Beh, io per non dar prova di debolezza non lo dirò mai. Io ci ho provato. Però è vero. C'è una sorta di pregiudizio, come c'è il pregiudizio pubblico privato e non ci mettiamo mai in una logica di servizio. Perché la sanità, l'impresa, in questo riprendo Giovanni Paolo II, dice che l'impresa è un insieme di uomini che hanno un obiettivo comune e vivono l'autorità come servizio e non come potere. Ecco, questa è una definizione sulla quale potremmo discutere e sarebbe opportuno fare delle riflessioni. Cioè un ospedale non è un centro di potere, non è un centro di clientele. Incominciamo... Scusate, io sono un po' brutale forse a volte, ma lo dicevo prima con qualcuno, l'altezza dei miei anni mi porta a vivere la mia libertà. Perché me la sono guadagnata. E quindi, come il problema che si spende poco in sanità, possiamo provare a cambiare una... così, cambiare direzione non sappiamo in Italia come spendiamo i soldi in sanità. Noi abbiamo assistito a spettacoli un po' indecorosi e dal Ministro Bindi, mi sembra, che si parla di costi standard in questo Paese. Ne parlo perché Casa Sollevo è fondatrice di un network italiano, insieme a Bolzano, Rovigo e Genova, per l'elaborazione dei costi standard. E noi sappiamo al nostro interno come ci discostiamo. Quindi, come per la ricerca, ma non è vero che, almeno la mia esperienza, io ho un'esperienza pubblica e privata, e purtroppo ormai risale a 40 anni. Ma non è vero che sulla ricerca mancano i soldi. Non sappiamo dove li allocchiamo e se li allocchiamo bene. Perché magari la ricerca viene data in funzione di lobby, di gruppi, di potere, che qualunque persona, in buona fede, riesce a leggere da solo senza che lo stia a dire io questa sera, per non sembrare... Sì. Grazie, allora. Grazie, Dottor Crupi. Donato Pace, aiutami a portare il discorso, invece, più sul territorio e quindi a livello regionale. Prego, Donato, può fare delle domande. Presidente Pittella, c'è stata una riforma della sanità che ha scondentato molti. Il problema più grande è quello delle liste d'attesa, insieme alla immigrazione sanitaria. I Lucani vanno molti a San Giovanni Rosendo, ma vanno molti al nord. Ci sono rimedi? Una precisazione. Non esiste riforma che si accompagni col consenso. Non l'ho mai vista. Tutte le volte che provi a cambiare qualcosa che ha rappresentato negli anni una sorta di abitudine, viene definita quella una rivoluzione e inevitabilmente quella rivoluzione, quel cambio di abitudine, mettiamola così, spaventa e destabilizza. Se poi, nel clima dell'incertezza, lo dico a pace che è un attento lettore e costruttore di idee, se poi noi a questa incertezza aggiungiamo la considerazione secondo la quale c'è un contesto di grande transizione politico-istituzionale, per cui siamo facili e sovente cadere in provocazione e strumentalizzazione. È evidente che una riorganizzazione ospedaliera obbligatoria per la nostra regione, per migliorare la qualità, l'efficienza, per rispondere anche ad obblighi normativi. Mi chiedo, ma noi come su un territorio è vero molto grande, con 540 mila cittadini, come reggiamo 18 ospedali? La politica deve decidere se di questi 18 ospedali, nell'orografia che caratterizza la nostra regione, è in grado di chiuderne 14, oppure se deve riorganizzarli, riconvertirli e in una sorta di rete provare a dire che cosa è il territorio, che cos'è l'emergenza, che cos'è la Cuzzi. È la riorganizzazione che noi abbiamo messo in campo. Presidente, si deve far aiutare dal dottor Rotelli, che gli ospedali ne ha 18. Sì, ma il dottor Rotelli ce li ha in Lombardia. Insomma, capisco che la basicata è un quartiere della Lombardia sicuramente di grande qualità. Insomma, 18 per il nostro territorio sono una esagerazione. Io penso che vada sempre letta, come dire, anche la reazione popolare va compresa, va ascoltata, va poi accompagnata verso una maggiore presa di coscienza, di consapevolezza rispetto ad una esigenza e ad una necessità. E se io racconto a mia madre che cos'è la 161 sugli orari di lavoro e sul turno di riposo, difficilmente lo comprende. E se poi dico ma allora aumentiamo il personale anche per le liste di attesa e poi io l'impatto della nostra regione sul tetto massimo di spese, per cui io oltre il 2004, meno 1,4% non posso andare, io provo a spiegare e hanno difficoltà anche gli addetti lavori a starmi dietro o a star dietro da un ragionamento del genere. Diventa difficile al cittadino pensare di spiegare perché se si interrompe la luce, si fulmina una lampadina equivale a chiudere un reparto o a sopprimere un dipartimento. Io calo sempre e contestualizzo sempre ogni azione e provo a dire chi è chiamato a recitare, a svolgere ruoli di estrema responsabilità o decide di abbracciare quella responsabilità all'insegna delle riforme, di un approccio spinto, coraggioso e riformista, oppure deve fare altro mestiere, lo dico anche con pochissimi anni in meno del direttore, ma perché bisogna essere crudi e anche essenziali veri e sinceri con i cittadini. Volgere lo sguardo altrove quando il tema c'è, esiste, significa far precipitare in basso questa nostra società e anche questa nostra regione. Direttore Quinto, l'ASM vive un paradosso, si allungano le liste d'attesa, avanza in altre realtà l'intelligenza artificiale a servizio della medicina, ma voi all'ASM non riuscite ad assumere i medici. Io vorrevo precisare immediatamente le liste di attesa, quelle non sono lunghissime, se noi facciamo un distingo. L'altro giorno in un incontro con i direttori generali di Tutti Italia in sede Fiaso analizzavamo questa nuova campagna che il neoministro Grillo ha messo in campo sulla riduzione delle liste d'attesa. Però quando noi parliamo di liste d'attesa dobbiamo puntualizzare due fattori. Il primo, a che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo alle prestazioni urgenti, quelle prestazioni che il medico di famiglia nell'ambito delle classi di priorità indica come urgenti ed indifferibili, quelle in Basilicata e anche nell'ASM vengono erogate massimo nei 15-20 giorni. Quindi prestazioni urgenti. Il medico di famiglia valuta l'urgenza, contrassegna sul ricettario la B breve, la U urgente o la differita e la prestazione viene eseguita. Quello che crea qualche problema sono le visite non urgenti, le prestazioni non urgenti, quelle prestazioni di routine, quei controlli, ma anche qui dobbiamo fare un'altra precisazione. Se un elettrocardiogramma il cittadino vuole farlo nell'ospedale di Matera, che ha un bacino d'utenza della città, 60.000 abitanti più l'interland, con i medici, poi torniamo sul problema della difficoltà di reclutare gli specialisti, è logico che potrà attendere per una vista cardiologica con ECG un periodo che va anche oltre i 90 giorni. Però nell'ambito della ASL, se ragioniamo in ambito regionale, nell'ambito della regione Basilicata, c'è sempre un presidio sul territorio che eroga quella prestazione in tempi assolutamente conformi alla norma. Noi avevamo, le dico, in Basilicata la reumatologia che è un'eccellenza, perché c'era il compianto professor Olivieri, la sua squadra, ma se tutti volevano farsi visitare dal professor Olivieri, è logico che dovevano attendere anche un anno. Poi c'erano le attività che erano dislocate sul territorio e che ne potevano erogare delle prestazioni anche in tempi brevi. Gli specialisti. Io ho fatto una campagna mediatica l'anno scorso, il Presidente Pittella lo sa bene, perché non riusciamo in Basilicata, ma è un tema che riguarda tutte le regioni, a trovare sufficienti medici specialisti. C'è una sfasatura tra la programmazione della facoltà di medicina, del numero per accedere alla facoltà di medicina e ancora di più per le specializzazioni rispetto a quello che fa bisogno delle aziende. Questo è un tema che affronteremo tra poco all'auditorium. Mancano pochi minuti alla conclusione di questa diretta, io devo necessariamente parlare però anche di ricerca, cioè volevo spostare un po' anche il tema nei laboratori, entrare nei laboratori. Paolo Rotelli presiede un gruppo da 18 mila dipendenti, un miliardo e 600 milioni di fatturato annuo, è la prima impresa italiana della sanità. Voi investite tantissimo in ricerca. Ci può brevemente dire cosa bolle in pentola rispetto alle grandi patologie cardiovascolari, tumorali? Cosa abbiamo immediatamente di fronte a noi dal punto di vista della ricerca clinica? Le terapie molecolari avanzate sono il futuro della medicina e noi abbiamo una grande fortuna in Italia che su questo siamo forti, grazie al San Raffaele, perché... Fa parte del gruppo. La fortuna è che quando nessuno credeva nella genetica, nelle terapie molecolari avanzate, Don Verze ci ha creduto e da 40 anni al San Raffaele si investe in tal senso. Oggi lì si è capaci di, partendo da cellule della pelle, creare delle cellule staminali e poi trasformarle in altre cellule del corpo. Ora, sintetizzando al massimo, queste cellule non si possono ancora usare, ma questi sono i primi step per poter andare a curare, diciamo, le persone, andando a fare spuntare, crescere, diciamo, le molecole di cui hanno bisogno. Le applicazioni sono infinite, diabete, terapie neurodegenerative, Alzheimer, sclerosi multipla. E questo è un po', diciamo, ciò che bolle in pentola da noi. L'altra cosa, molto importante, è che la medicina subirà una rivoluzione dovuta al data e all'intelligenza artificiale, che sarà un'evoluzione, diciamo, della standardizzazione della qualità. Ecco, questo è poi due punti veloci. Ottimo. Senta, dottor Krupin, malattie neurodegenerative. C'è una casa sollievo della sofferenza che non si fa trovare impreparata rispetto ai più avanzati standard di ricerca internazionali. Voi ne sapete qualcosa? Mi piacciono queste affinità tra un ospedale del Sud e il San Raffaele. Ma noi abbiamo, ci siamo impegnati al massimo, perché il futuro è la ricerca. La qualità dell'assistenza è la ricerca. Una ricerca particolare, però, è una ricerca che guarda anche a tecnologie innovative sviluppate all'interno dell'ospedale. Però voglio dare dei dati concreti. Noi siamo un istituto scientifico che si occupa di cellule staminali, nel nostro scopo sociale, terapie innovative e malattie degenerative. In questo momento, un istituto, casa sollievo della sofferenza, noi lasciamo un po' sotto traccia questa comunicazione, perché non è che non ci interessa, non vogliamo creare illusioni, perché la ricerca è di una delicatezza, dal punto di vista etico, incredibile. Guai creare illusioni negli ammalati. Quindi, però, non posso non dire che abbiamo finito, terminato la fase 1 di sperimentazione di cellule, tra pianti di cellule staminali, sui malati di SLA. E sta per iniziare la fase 2. Lo stesso sulla sclerosi multipla. Siamo già sulla sperimentazione sull'uomo. Visto quello che succede in questo Paese, è bene dire che le nostre sono sperimentazioni autorizzate dall'AIFA, protocolli internazionali, controlli contro controlli, perché è giusto che sia così. E in questo momento, lo possiamo fare purtroppo in Olanda, e non in questo Paese, non in Italia, stiamo sperimentando il glioblastoma. Ho citato tre patologie senza speranza. Ci tengo a precisare, però, che i nostri ricercatori hanno dimostrato che per le cellule staminali non è necessario utilizzare gli embrioni. Questo è un tema molto complicato. Diceva, vabbè, un istituto di proprietà della Santa Sede, che fa? Ma non era, era dal punto di vista scientifico, perché il premio Nobel di tre anni fa lo sosteneva, il giapponese, ora mi sfugge il nome, e non oso dirlo. E poi, molto importante, sull'intelligenza artificiale. Noi ci stiamo lavorando, abbiamo rivolto essenzialmente ai malati di Alzheimer, stiamo lavorando con IBM, che ha finanziato, e utilizzando la loro piattaforma. La robotica, in questo momento, Casa Sollievo, lo dico, scusate, non per magnificare Casa Sollievo, ma perché io vivo a Genova da 60 anni, però sono calabrese, e mi trascino dietro questa sensazione. E voglio dire, di questo sud, un po'... Noi abbiamo fatto un centro di ricerca in tre anni, spendendo 14 milioni e 400 via. Grande errore, lo racconteremo un'altra volta qual è stato il nostro errore. Quindi ci sono queste sperimentazioni importantissime sull'Alzheimer, la robotica assistiva, ricostruire i ricordi, la vita dei malati. E' tutta un'altra serie di... Vedo che il tempo è... Grazie, è stato molto gentile. Ma io ho un'occasione piuttosto singolare, perché ho il presidente del gruppo ospedaliero San Donato in questa sala, accanto a lui c'è il presidente della regione Basilicata. E voglio domandare al dottor Rotelli come si fa ad aprire un San Raffaele in una regione del mezzogiorno. O meglio, quali sono le condizioni per cui lei aprirebbe domani mattina un San Raffaele II in Basilicata? Non sono sicuro che la Basilicata abbia bisogno di un San Raffaele II. Perché sta molto bene in San Raffaele. Però, se parliamo del Sud, è molto semplice. Prima, le stesse regole che in Lombardia. Uno, le stesse identiche tariffe che il pubblico. In Lombardia non si fa a gara a quale erogatore proporrà di seguire le cure a tariffa più bassa. La tariffa tra pubblico e privato convenzionato è la stessa. Quindi, uno, stesso trattamento. Due, possibilità di fare tutta l'altra specialità, incluso il trapianto d'organi, come facciamo a San Raffaele. Tre, possibilità di avere l'università. Quattro, possibilità di fare ricerca, di ricevere finanziamenti per questa ricerca. Perché se San Raffaele è il San Raffaele è comunque perché riceveva e continua a ricevere forti finanziamenti da Stato e Regione. Dico riceveva perché ultimamente sono molto ridotti. Proprio portare avanti questa ricerca. E adesso, grazie a tutti, vogliamo sapere che ne pensa il Presidente della Regione Basilicata. Che per i prossimi vent'anni non si può fare il San Raffaele in Basilicata. a meno che oltre, no, lo dico al di là della battuta, oltre lo sforzo che l'ente Regione può mettere in campo, c'è bisogno di una inversione complessiva del paradigma nazionale. Altrimenti noi non potremo, purtroppo dico, più complessivamente nel Mezzogiorno d'Italia avremo difficoltà ad avere un San Raffaele per indenderci. Considerando che l'Università di Basilicata, al di là del fatto che non c'è la Facoltà di Medicina, non c'è il corso di laurea in Medicina, stiamo faticando per ottenere il sì da parte del MIUR per avere 50 posti in più oltre quelli condigentati per fare un corso di laurea in lingua inglese e in medicina in Basilicata, con il sì di Palazzo Chigi già espresso da due anni, a totale carico economico della Regione Basilicata. Ci stiamo provando, ma se dovessimo dirla tutta, la Basilicata, la sua Università, la Regione Basilicata, con un trasferimento annuale di 12 milioni di euro, altrimenti noi non avremmo l'Ateneo. Possiamo immaginare che significa sulla ricerca. È evidente che noi riusciamo a trasferire quello che possiamo sulla ricerca, ma se non c'è un intervento straordinario da parte del Governo nazionale o e o di imprenditori privati, diventa complicato che il nostro istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, il CROB, possa svolgere la stessa ricerca che si fa, voglio dire, negli ospedali e nelle strutture a cui si è fatto riferimento prima. Per cui non è tanto il tema della tariffa. È anche quello ed è facilmente superabile. Noi proviamo a sintonizzarci con il DEA di primo e di secondo livello su un segmento medio-alto di erogazioni di prestazioni sanitarie, provando in alcuni ambiti ad essere anche eccellenza. Pensare di avere oggi qui in Basilicata realisticamente una ricerca avanzatissima e tutto il resto di cui abbiamo appena parlato diventa oggettivamente come dire un'ambizione ma di difficile realizzazione per essere concreti e per essere seri. Grazie al Presidente della Regione. C'è Donato Pace che voleva intervenire. Prego. Una domanda curiosa al Dottor Rotelli. Lei ha studiato scienze umane, filosofia, sociologia. Come fa a conciliare la sua formazione culturale con la gestione ospedaliera? Così complessa e complicata? Allora, è molto facile. Un'azienda, la finfiera ospedale è un'azienda, non sono principi in sé, sono la somma delle persone che la formano. e come diceva il manager qui accanto a me, l'ospedale non è un luogo diciamo di lotte di potere e un luogo di autorità dall'alto al basso. Per ottenere buoni risultati in sanità bisogna motivare le persone, condividere obiettivi e in questo convincere la persona che si è di fronte, convincere il primario, convincere il ministrato delegato e per questo avere conoscenze umanistiche è essenziale. Non è la finanza che insegna a parlare alle persone, che insegna a motivare le persone, che insegna a avere una visione, ma sono le scienze umane. Quindi mi trovo perfettamente al mio agio. Direttore Quinto, dove va la sanità lucana? Ha una prospettiva, ha una speranza di uscire fuori dalle secche della difficoltà? Guardi, io voglio dire a Donato Pace, quando noi partecipiamo a fare incontri a livello nazionale, la sanità di Basilicata e all'Accadema Nazionale di Medicina, ai vari formi, quando proiettano la sede dello stivale, la Basilicata ha sempre un colore bianco rispetto alle regioni sicuramente del sud perché è una sanità che è apprezzata molto fuori dalla Basilicata e forse dovrebbe essere apprezzata anche in Basilicata perché ha conti in ordine, non è mai stata una regione né commissariata né accompagnata da parte del MEF, è una regione che praticamente ha standard e performance compatibili con i parametri ministeriali e una sanità che tutto sommato ogni anno riduce la migrazione sanitaria ed aumenta quella attiva. Forse noi lucani dovremmo avere più fiducia delle cose che facciamo perché a livello nazionale la nostra sanità è apprezzata. Quindi io mi sento di dire potrebbe essere anche autoreferenziale questa mia affermazione ma credo che il collega e anche il dottor Rotelli che frequenta simposi nazionali importanti si renderà conto che ciò che dico corrisponde al vero quando chiedono in Basilicata voi avete una buona sanità. Dottor Crupi voi private dite sempre che la sanità non è un costo ma è un grande vantaggio ma io l'ho bruciata sul tempo no ma io questa definizione di privato incomincerai a metterla un po' per quel che riguarda casa sollievo della sofferenza noi siamo un istituto scientifico riconosciuto dallo Stato italiano siamo un ospedale classificato che concorriamo in via continuativa e dovrei usare un'espressione di qualche sentenza del Consiglio di Stato che non mi piace tanto in modo scusatemi consustanziale a raggiungere gli obiettivi del servizio sanitario c'è una struttura come casa sollievo 56.000 ricoveri l'anno ricordo per inciso che siamo collocati in cima a una montagna dove bisogna fare sei tornanti abbastanza impegnativi soprattutto per le autoambulanze 56.000 ricoveri oltre un milione di prestazioni ambulatoriali 2.800 dipendenti un centro di ricerca che in questo momento è coinvolto la ricerca oggi non la si può fare in maniera isolata non esistono il centro di ricerca esiste il centro di ricerca che ha la capacità di creare alleanze importanti in questo momento casa sollievo un progetto di casa sollievo è segnalato nel radar delle innovazioni che è un network pubblico della comunità economica europea che definisce uno dei nostri progetti il più influente per opportunità per imprenditori e quant'altro questo è un progetto che va avanti è andato avanti con sette paesi europei e ora alla fine i giapponesi devono aver sudorato l'opportunità e sono arrivati i giapponesi quindi privato oggi l'importanza l'importante è concorrere a dare un servizio dignitoso ai cittadini poi che lo faccia il pubblico lo faccia il privato io non credo che questo sia fondamentale io poi direi io ho lavorato nel pubblico scusi ho lavorato nel pubblico con orgoglio perché io credo che le buone cose si possono fare anche nel pubblico il problema non è di demonizzare il privato noi siamo un privato no profit quanto per intenderci noi diamo soggiorno gratis alle famiglie dei bambini dell'onchematologia pediatrica i parenti insomma non tutti hanno i soldi per poter soggiornare a San Giovanni Rotondo e dico anche che in questa missione che è una missione che deriva dai carismi del nostro fondatore lo so che non è molto popolare quello che sto per dire neanche in ambienti cattolici in questo momento stiamo ospitando attraverso i corridoi umanitari dieci dieci persone di cui tre bambini che sono ricoverati da noi supportiamo l'Africa noi l'ospedale ho visto e sono contento il gruppo Rotelli è un ospedale a Dubai o è un progetto è un progetto ecco noi ci dobbiamo accontentare di sostenere appoggiare un ospedale nel Benin ecco voglio dire l'importante rendere è fare servizi fare servizi direi al pubblico perché io mi sento vicino al pubblico e ai colleghi che lavorano nel pubblico il problema non è demonizzare il privato è dire ma perché il privato fa questo andiamo a individuare le cause e i motivi e importiamoli perché io so che cosa significa l'ho fatto il direttore generale in aziende pubbliche anche in dipartimenti regionali so che significa dico però non demonizziamo il privato copiamo le buone pratiche del privato soprattutto l'efficienza grazie grazie a dottor Crupi grazie a tutti gli ospiti che sono intervenuti tra pochi minuti l'appuntamento è nell'auditorium di Piazza del Sedile dove ci spostiamo e dove inizierà la nuova diretta visibile anche sui canali facebook di Avvenire di TRM Video dell'associazione Giovane Europa degli sponsor Cooperativa Auxilium BCC di San Michele e Alberobello l'appuntamento è tra 20 minuti grazie a tutti i nostri